Sono parole gravi che minano l'immagine dell'Italia. Qualche giorno fa Giorgia Meloni ha chiesto al Partito Democratico di scusarsi per le dichiarazioni che a livello internazionale, le preoccupazioni che a livello internazionale sta suscitando questa destra italiana al governo. Forse dovrebbe chiedere lei scusa all'Italia e fare una verifica all'interno della sua maggioranza se davvero hanno la forza, la capacità, la credibilità per governare questo Paese o invece se, come io credo anche alla luce di queste parole, non lo stanno isolando sul piano internazionale e dunque rendendolo più debole.